apri di sesamo una nuova trasmissione di teleweb vision napoli oggi sesamo è alla ricerca di buone occasioni commerciali tra i commercianti aderenti all'associazione commercianti di san giovanni noi siamo per stiamo facendo delle interviste per conto dell'associazione commercianti di san giovanni ci vuole parlare un attimo di questi prezzi mentre le parla così ce li mostra così tutti i prezzi che sono scorsi metrina stanno tutti sottoposto i prezzi paoli sul mercato sono tutti i bassi prezzi che un cliente mi venire a comprare e che si farà nel prodotto come vediamo stanno tutti quanti qua e nella vetrina qua questi qua diciamo i telefonini partono dal prezzo più basso da 15 euro a salire a cifre elevate dai 600 ai 700 euro in base alla persona quando vuole spendere su un cellulare poi i vari prodotti accessori pc a finire tv ed eccetera che stanno dire l'altro senta leggo un insegna pixel che significa perdone l'ignoranza ma c'ha un significato si è un significato che è stato creato dieci anni fa dall'altro collaboratore che adesso non c'è è un simbolo sfizioso personaggio con le punte in testa che rappresenta l'informatica l'informatica in sé per sé informatica parlando di informatica di pc e assistenza cellari, smartphone, tablet, tutto quello che è di elettronico tra poco arriverà san giovanni il padrono di san giovanni a tutti i giorni bene per quel giorno fino a quel giorno c'è un prezzo particolare se vengono dopo aver visto e menzionato questo video avranno uno sconto su tutti i prodotti che stanno qui escosti in vendita sconto per ref e particolare di? del 20 per cento su tutti i prodotti 20 per cento su tutti i prodotti lei ha una voce bellissima e poi il napoletano altra volta ha detto un'altra cosa ha detto Waiu venite da VIXEL la vuole ripetere quella cosa? Waiu ad Anisolando VIXEL per trovare una roba bella prodotti tutti sottoposti ci vuole salutare? ciao un bacio da VIXEL a live without meaning i was walking away